Beh diciamo che questo video ha tardato un po' ad arrivare, di esattamente di circa 6 anni, però è arrivato. Benvenuti nella recensione della stampante Samsung CLP360, 365W, C410W, C430W, ora ho aspettato un sacco a fare questa recensione, essenzialmente perché nonostante io abbia posseduto questa stampante in passato, e che problema hai, esattamente, carta, toner giallo, toner giallo, interessante. Ok, stavo dicendo, nonostante io abbia posseduto questa stampante all'epoca, non esattamente questa stampante qua davanti, ma una stampante del modello CLP360, però all'epoca non avevo, cioè avevo già il canale YouTube, ma non facevo video, o tanto o meno lo facevo seriamente, quindi insomma non facevo recensioni di stampanti, mettiamola così. Quindi non l'ho fatto, e poi negli anni successivi non mi sono capitate stampanti di questo modello sottomano, adesso me ne sono arrivate 5, quindi direi che è l'ora di farci un po' di video a riguardo, e alcuni li ho anche già fatti, quindi insomma. Ora, scusate per questo errore iniziale, ma sto utilizzando dei toner di scarsissima qualità, che dovrò sostituire ovviamente prima di mettere in vendita queste stampanti, però iniziamo subito con una descrizione iniziale delle stampanti in questione. Queste sono stampanti laser a colori, e questo comporta dei vantaggi e degli svantaggi, ma quello comunque ci arriviamo dopo. Ma la cosa più importante è il fatto che questa stampante laser a colori sia estremamente compatta, cioè ha delle dimensioni che sono veramente minime. Ora, non mi sono preparato delle dimensioni in anticipo, perché sono una persona che sa fare video. Quindi 38 cm circa per 31, però con l'estensione del cassetto arriviamo a circa 40, per un'altezza di 21. Quindi comunque sono delle dimensioni che, per essere una stampante normale domestica, non sono poi così tanto compatte, insomma, come dimensioni. Però per essere una stampante laser a colori, sono veramente compatte come dimensioni, cioè le stampanti laser a colori sono molto meno compatte di solito. Quindi sì, il problema è che per raggiungere l'obiettivo di dimensioni come queste sono stati fatti un bel po' di sacrifici, che insomma vedremo poi, cioè vedremo tra poco. Questo è un qualcosa di inevitabile, nel senso all'interno di questa stampante è tutto impacchettato ai massimi livelli che mancano gli smartphone moderni, nel senso, cioè tutti i componenti sono impacchettati tantissimo per delle dimensioni anche abbastanza compatte per rendere appunto la stampante il più compatta possibile. Quindi purtroppo sì, sono stati fatti dei sacrifici e vedremo poi tra poco di cosa si tratta. Ma non è nemmeno quello il problema principale di queste stampanti, perché sì, sono stampanti un po' problematiche, questo è senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda i vantaggi di una stampante laser, abbiamo una stampa in nero che è molto veloce, arriviamo intorno alle 18 pagine per minuto in A4, che non è affatto male come velocità di stampa, è abbastanza elevata come velocità di stampa, quindi direi niente male. Per quanto riguarda la velocità a colori invece è veramente bassissima, sono 4 pagine per minuto, è estremamente lenta, ma quello poi ce li diamo dopo nel descrivere perché abbiamo una velocità così bassa nella stampa a colori. Per quanto riguarda i vantaggi, abbiamo una stampa che risulta essere di una qualità eccellente, le stampanti laser sono note per avere un'ottima qualità di stampa di documenti, i documenti stampati su un stampante laser solitamente sono molto più apprezzabili in realtà, per il fatto che possono essere evidenziati, esposti a qualsiasi cosa, durano nel tempo, hanno anche un aspetto diciamo molto superiore rispetto alla stampa di documenti con stampanti in jet, soprattutto con inchiostri dye based e soprattutto il vantaggio più grande rispetto alle stampanti in jet d'inchiostro è il fatto che queste stampanti non sono soggette a manutenzione costante, nel senso una stampante in jet d'inchiostro la dovete usare, se state senza stampare per mesi con una stampante in jet d'inchiostro avrete problemi, l'inchiostro si seccherà all'interno delle testine di stampa e saranno problemi abbastanza seri spesso, richiedendo anche riparazioni abbastanza intensive, mentre su stampanti laser potrei lasciare spenta questa stampante inutilizzata per 5 anni, non avrei alcun problema di alcun tipo, perché appunto il toner, a differenza dell'inchiostro, è una polvere, è una polvere composta principalmente da materiale plastico finissimo con aggiunta del colorante appunto, pertanto non c'è nemmeno una testina di stampa, è una tecnologia completamente diversa, quindi non va effettivamente a creare problemi nel caso dovessimo lasciarla ferma per molto tempo, quindi questo è un grande punto a favore delle stampanti laser, non avrei nulla da dire nel caso una persona decide se riacquistare una stampante laser solo per questo motivo, assolutamente, oltretutto abbiamo una risoluzione di 2400x600 dpi, che in realtà se ci pensate è abbastanza standard, perché la stampante supporta una risoluzione di 600x600 dpi, però per la stampa colori questo processo viene fatto 4 volte su 4 colori, sebbene la risoluzione non sia così bassa, queste stampanti non sono pensate e non ci potete stampare fotografie, è un qualcosa di impensabile, le fotografie le dovete stampare su stampanti e aggette l'inchiostro, le stampanti laser non sono fatte per stampare fotografie e non potrete stamparci fotografie, è un dato rifatto, cioè è una tecnologia che non è adatta per stampare cose di questo tipo, come non potrete stamparci cartoncini, non potrete stamparci materiali abbastanza spessi, perché sono stampanti pensate esclusivamente per la stampa di documenti, al massimo di brochure, ma comunque sono stampanti che non sono fatte per utilizzi artistici, stampa fotografica, niente di tutto ciò. Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, questo è un punto abbastanza importante delle laser, e diciamo che le stampanti laser spesso arrivano a consumare anche più di 500-600 watt, stampanti laser domestiche, e questa arriva a consumare intorno ai 290 watt in fase di stampa, è un consumo abbastanza elevato per quanto riguarda le stampanti in generale, le inkjet spesso stanno sotto ai 50 watt, però c'è da tenere in considerazione che è un dispositivo che lo terrete acceso per quando dovete stampare e basta, quindi alla fine non è un consumo che andrà a incidere sul costo della bolletta o altro, è un dispositivo che deve essere utilizzato per poco, non è come ad esempio un frigorifero che vi sta acceso tutto il giorno, insomma no, non è un qualcosa di troppo rilevante se ci pensate, questo è principalmente tutto per quanto riguarda le caratteristiche di stampa, ora per quanto riguarda appunto la lentezza della stampa a colori, come dicevo è una cosa abbastanza inevitabile, perché il processo della stampa in nero lo dobbiamo ripetere per la stampa anche del ciano magenta e giallo, quindi la stampa del colore risulta molto più lenta, in quanto questa stampante ha un solo fotoconduttore, invece che quattro, come le stampanti laser a colori un po' più serie, per così dire, quindi deve fare quattro passaggi per la stampa del colore, invece che uno, nel senso se ho una stampante con quattro diversi tamburi, quattro fotoconduttori, quattro cartucce, io posso fare in una passata unica della cina di trasferimento, che sarebbe quella che trasporta il toner direttamente poi sulla pagina con rullo di trasferimento, la stampa di tutti e quattro i colori, mentre per quanto riguarda invece una stampante del genere, ovvero una stampante con quattro cartucce ma con un solo fotoconduttore, il fotoconduttore deve fare quattro passaggi, un passaggio per ogni colore, sulla transfer belt, sulla cina di trasferimento, per poi passarlo sulla carta, quindi purtroppo è inevitabile il fatto che la stampante stampi molto, molto, troppo lentamente i documenti a colori, ma non è nemmeno questo molto il problema di queste stampanti, il problema fondamentalmente è che questo non riguarda soltanto questa stampante, ma tutte le stampanti laser in generale, ovvero i componenti e i consumabili, nel senso, su queste stampanti non avete soltanto le cartucce, non è una stampante a getto d'inchiostro che se avete un problema vi finisce una cartuccia, cambiate la cartuccia, buon fatto, su queste stampanti abbiamo anche altri consumabili, oltre alle cartucce, che potrebbero dar problemi, tra cui appunto il fotoconduttore, tra cui appunto anche la ITB, c'è la cinghia di trasferimento, tra cui anche il fusore, insomma ci sono più cose che potrebbero andare storte in una stampante come questa, nel stampanti laser ma soprattutto in una stampante come questa, oltretutto queste stampanti sono anche note per avere un problema su un solenoide, quindi potrebbero oltretutto anche causare problemi di funzionamento più avanti, e richiedere un intervento di assistenza tecnica, o comunque una riparazione, però stando comunque sui consumabili per adesso, che sono cartucce e fotoconduttore, diciamo che se state sugli originali, otterrete sicuramente una qualità più alta, però diciamo che sono molto costosi, cioè 58,99€ per ogni cartuccia, sia per il nero che per i colori, ora per il nero 58,99€ per la stampa di 1500 pagine, sono 3,9 centesimi a pagina, quindi è un prezzo anche abbastanza basso, mentre per la stampa dei colori, diciamo che nel peggiore di casi, in cui utilizzate un equivalente quantità di ogni colore per la stampa di un foglio, sono 58,99€ per 3, quindi sono circa 170-160€, e ci stamperete mille pagine, perché sono mille pagine per ogni colore, però se stampate con circa la stessa quantità di toner, per quanto riguarda insomma tutti e tre i colori, alla fine stamperete mille pagine in totale, con 3 cartucce, quindi arriviamo a un massimo di 17,6 centesimi per pagina, che è tipo, penso il prezzo più alto che io abbia mai visto per la stampa a colori, sono stampante da quando faccio recensioni, è veramente un prezzo estremo, è un qualcosa di mai visto prima, quindi la stampa a colori, se utilizzate cartucce originali, è un qualcosa che eviterei veramente a prescindere. La stampa invece del fotoconduttore, il fotoconduttore lo pagate 112,48€, sempre stando al prezzo di listino, ovviamente questi prezzi possono variare, possono essere molto più bassi anche in base a dove cercate, e ci potete stampare 16.000 pagine in nero, questo numero va diviso per 4 se stampate a colori, nuovamente, quindi se stampate in nero, il prezzo è di 0,7 centesimi per pagina, che è veramente bassissimo. Se stampate a colori, invece il costo per pagina di questo componente è di 2,8 centesimi per pagina, quindi porterebbe il costo totale delle stampe a colori a circa 20 centesimi per pagina, è un prezzo folle, è un prezzo folle, cioè è un qualcosa di folle, cioè non è possibile standere 20 centesimi a singola pagina stampata per la stampa a colori, è veramente un prezzo insensato secondo me. Bene, per quanto riguarda invece la cinghia di trasferimento, qua non è più diciamo un componente, cioè non è più un consumabile, ma si tratta più di componenti in realtà, più che di consumabili, però dato che alla fine anche questo è un componente che ha un ciclo di vita di circa 20.000 pagine, ancora una volta, 20.000 in nero, se fate la stampa a colori, 20.000 diviso 4, quindi capite che non è così difficile pensare di arrivarci a questi valori qua, il fotoconduttore, scusate, la cinghia di trasferimento ha un prezzo che varia costantemente in dipendenza da dove lo acquistate, tra 50 e 150 euro, dipende veramente da dove lo acquistate, perché qua non si tratta più di componenti consumabili, ma si tratta proprio di componenti, insomma pezzi di ricambio, diciamo che quindi dipende molto, e tra l'altro per sostituire la cinghia di trasferimento ho un video su YouTube, ma diciamo che serve un software confidenziale per il reset del counter, quindi non è la cosa più semplice del mondo da fare, serve diciamo un piccolo intervento, perché mi era la cinghia, e quindi questa è un altro possibile componente che potrebbe creare problemi, il fusore anche, il fusore ha sempre 20.000 pagine di lifespan, questo però non dipende dal tipo di stampa che andiamo a fare, nero a colori, perché il fusore alla fine va a emettere il foglio, quindi viene utilizzato una sola volta che stiampiate in nero o a colori, quindi questo diciamo che è un po' più complesso arrivarci a questo valore, però sì, non è nemmeno così impensabile arrivare a stampare 20.000 pagine alla fine, quindi sì, basta tenere in considerazione che comunque queste stampanti non sono come l'ingjet, che avete soltanto la preoccupazione delle cartucce, qua avete più componenti da tenere d'occhio, quindi fate attenzione, fate attenzione perché appunto sono stampanti che hanno bisogno di un po' di attenzione, questo è tutto quello che posso dire a riguardo. Ora, per quanto riguarda le differenze tra la CLP360, 365W e le altre, posso dire che la 360 ha la sola connettività USB, mentre le altre hanno tutta la connettività anche wireless, mentre la C410W, la C430W, doppia anche hanno anche la NFC. Tutte le stampanti, eccetto la 360, hanno anche la stampa di rete, quindi hanno l'interfaccia Ethernet e possono stampare anche da mobile, quindi insomma ci sono diversi vantaggi in merito alla connettività nell'utilizzo di queste stampanti. Questa è l'unica cosa rilevante per quanto riguarda le differenze tra queste stampanti, perché per il resto sono veramente identiche, non hanno alcuna differenza. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare il tasto Echo sulla stampante che andrà a ridurre il quantitativo di toner, quindi potremo risparmiare un po' di toner per le nostre stampe, anche lì però, nel senso, non aspettatevi miracoli assolutamente. Sui consumabili originali andrete a stampare veramente poco, spendendo veramente tanto. Per quanto riguarda invece compatibili, qua si apre un mondo, perché dipende molto anche dalla qualità delle compatibili in questione, cioè ricordo che dovrete usare comunque consumabili di buona qualità. Però potrete ottenere quattro cartucce compatibili per circa 29-30€, il che è un prezzo veramente molto, molto basso, e potrete acquistare le singole cartucce per circa 7-8€, quindi comunque sono prezzi veramente molto bassi, ovviamente acquistando online da specifici siti, che eventualmente potrete dirvi nei commenti, se ci fosse qualcuno di interessato. Quindi adesso passerei direttamente ai test di stampa, e dato che comunque i test di stampa sono qualcosa che impiegheranno un bel po' di tempo, perché come vi ho detto queste stampanti hanno una stampa delle pagine a colori che è veramente troppo lenta, a parer mio, nel frattempo posso parlarvi di uno dei problemi di queste stampanti, che è veramente un grande problema, ovvero un componente, che è un solenoide su queste stampanti qua, che purtroppo dà problemi, nel senso raggiungendo un certo numero di pagine, raggiungendo un certo tempo passato, diciamo, purtroppo è un componente che dà problemi e deve essere sostituito con un intervento di assistenza, che non è nemmeno tra i più semplici, anzi è abbastanza complesso. scusatemi, devo riavviare il test di stampa, dato che mi si è interrotta la registrazione, dicevo, quindi per questo motivo non posso consigliarvi l'acquisto di queste stampanti, se non sono state ricondizionate in precedenza, per il fatto che, appunto, sono stampanti che possono avere questo problema. Poi, se sono state ricondizionate, come quelle che venderò io, dove c'è stato fatto un intervento di assistenza, allora sì, a quel punto sono stampanti perfettamente sicure da acquistare, perché hanno subito questa riparazione. Però stampanti di questo tipo, nuove, o usate, ma non ricondizionate, non ve le consiglio assolutamente, per il fatto che, sinceramente, non posso consigliare stampanti che hanno problemi di livello tecnico, proprio, cioè, problemi di questo tipo, cioè, non posso farlo, non posso veramente consigliare stampanti che possono avere problemi col tempo. Quindi, abbiamo stampato, come avete visto nel frattempo i test in nero e adesso potrete ammirare la lentezza di stampa della stampa a colori. Avete già visto, ho già avviato la stampa da un bel po' di tempo in realtà, quindi, già. non velocizzo nemmeno il video perché voglio comunque farvi assaporare la lentezza di queste stampanti, cioè, è un qualcosa di veramente assurdo nella stampa a colori è un qualcosa di impensabile, cioè, sono veramente troppo lente, cioè, troppo, troppo lente. quindi, detto questo, andiamo a osservare un attimo i test che sono stati stampati. Ora, questo è il test in nero, vedete, nessun problema, eccetto che ho la cartuccia del nero che è un po' in esaurimento, ma, come ho già detto, devo cambiare queste cartucce, però, come vedete, la stampa è veramente di ottima qualità. Per quanto riguarda i colori, invece, anche qua, la qualità non è affatto male, cioè, sono stampe a colori di un'ottima qualità senza alcun problema. Sto lasciando i problemi sulla stampa del nero, però, come ho detto, devo sostituire le cartucce toner in questione. Però, come vedete, sulla qualità di stampa non ho niente da dire, i problemi sono altri, ovvero che queste stampanti sono estremamente lente e possono dare problemi a livello di funzionamento. Quindi, ripeto, se non sono state ricondizionate e se avete intenzione di utilizzarle con cartucce originali, non vi acquistate, cioè, non vi consiglio assolutamente l'acquisto di queste stampanti. Se invece trovate delle stampanti ricondizionate dove vi viene specificato che è stato sostituito il solenoide sul pick-up della carta e, diciamo, avete intenzione di acquistarle con cartucce compatibili di alta qualità, allora sì, a questo punto posso anche consigliarvele. Però, dato che questa è una riparazione che non viene fatta praticamente quasi mai, quasi da nessuno, perché spesso non conviene nemmeno molto effettuare queste riparazioni, posso soltanto dirvi che nella stragrande maggioranza dei casi non vi consiglio di acquistare queste stampanti per i motivi che vi ho già detto. Quindi, non posso far altro che ringraziarvi per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile, spero che vi abbia, diciamo, interessati, che vi sia interessato come argomento. E niente, vi ringrazio ancora e al prossimo video. Ciao a tutti!